Alessandro, ci eravamo lasciati l'ultima intervista con te in Crotone ed è stata un'intervista molto forte, avevi sottolineato che eravate in un momento difficile, avevi usato altri termini, ora il momento è migliore? No, il momento sicuramente adesso è migliore a livello dei risultati, ma anche con la prestazione con Crotone è stata una grande prestazione sotto il mio punto di vista e chiedo scusa per le parole che mi sono fatto prendere dal momento. Ci sta, ci sta. No, vabbè, comunque sono un professionista e chiedo scusa alla società e ai compagni per le parole che ho detto, insomma è perché ci tengo tanto e sono molto emotivo, quando c'è una delusione faccio fatica a toglierla subito, quindi chiedo scusa per questo. Come sta adesso il Pescara? Pescara, stiamo lavorando forte, stiamo lavorando bene, abbiamo ottenuto una bella vittoria e non dobbiamo fermarci qua, perché comunque veniamo da molte partite in cui andava bene, andava male, non andava bene e quindi bisogna continuare su questa strada, bisogna avere continuità nei risultati. Vediamo se Alessandro Pizzari crede nei proverbi, come dice non c'è due? Senza tre. Sono due partite che non prendi gol? Eh, mi tocco un attimo. No, vabbè, comunque sono state due partite che non prendo gol, ma soprattutto per merito della squadra, non perché io abbia fatto grandi interventi o non interventi. Se io non prendo gol, dire che la squadra fa molto bene è anche merito, anzi, è quasi tutto merito della difesa, della squadra che ha la capacità e la mentalità di non voler prendere gol. Non te l'avevamo chiesto, ma le prestazioni hanno risposto per te, la spalla è tutto a posto? No, la spalla sta bene, sta bene. Ho cercato di rientrare il primo possibile perché ci tengo a aiutare i miei compagni e soprattutto ci tengo a giocare gol per il Pescaro, quindi ho fatto questo sacrificio, non ho fatto le vacanze di Natale, mi sono curato, mi sono allenato e sono rientrato prima. Ti chiedo le ultime due cose, la prima, la partita. Andria, squadra ultima in classifica, squadra che però ha necessità di fare punti. No, assolutamente. L'Andria, anche se ultima in classifica, le squadre che stanno sotto hanno voglia di salvarsi, ci mettono sempre qualcosa in più e soprattutto non dobbiamo fare l'errore di andare a sottovalutare una partita solo perché loro sono giù in classifica e noi siamo lì. Quindi, ripeto, bisogna avere la mentalità umile e la voglia di vincere, quello indipendentemente da chi affrontiamo. Tu sei sempre stato sincero nelle risposte. Pescara ha un bel vantaggio sul quarto posto ed è abbastanza lontana, anzitanto lontana dal Crotone che però non sta benissimo. Dove guardate? Io penso che dobbiamo guardare giorno dopo giorno, sono sincero. Io non guardo la classifica, non guardo chi c'è sopra e chi c'è sotto. Io voglio, per come sono fatto io, vorrei vedere ogni allenamento, ogni partita, una dopo l'altra, senza fare troppi conti perché secondo me quando inizio a fare conti è il primo passo per perdere qualcosa. Datti tu un voto al primo anno in maglia bianca azzurra. Ci pensiamo a fine anno.